Gli altri restino qui, grazie. Gli dica che è qui, è di uscire fuori. Charlie? Più forte, glielo ordini. Charlie, sono tua madre, avanti, vieni fuori. Ancora. Avanti, vieni fuori subito, giovanotto. Mi hai sentito? Va bene, agente, può accendere ora. È sicuro che sia qui? Al momento sono sicuro. Cerchiamo in giro. Charlie? 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 Non c'è tanta notizia di spettare in Danesburg, Mr. Smith. Sì, sì.